Camil, torniamo in Superlega dopo la grande festa della Supercoppa, torniamo con una bella vittoria su Milano, una partita molto più difficile del 3-0 finale. Sì, sì, siamo tornati, si poteva avere un po' forse paura che sarebbe difficile, infatti credo che i due primi set sono stati molto molto vicini, però alla fine siamo tornati bene concentrati e quello conta. Senti, tante difese in questa partita, le due fasi break sono state molto incisive, sia la nostra che la loro, è stata una vittoria di pazienza. 100% pazienza, sì. Adesso subito dopo la partita è ancora caldo e difficile dire che cosa abbiamo fatto meglio che loro, però mi è sembrato che loro hanno tenuto la ricezione molto bene, poi hanno sempre giocato con il centro, che dava un grande fastidio a noi, però sì, alla fine pazienza, punto dopo punto, mai perdere la testa è quello che ti porta a vincere. Senti, due veloci parole sull'inizio della Champions. Mercoledì arriva Ljubljana, iniziamo il nostro cammino, sappiamo bene quelli che sono gli obiettivi, è molto importante partire subito bene. Sì, più importante non perdere la testa e la concentrazione, mi sembra sono forse avversari forti che hanno comunque problemi a tenere un certo livello su una lunga distanza, lì non possiamo fare l'errore di pensare che si vince da solo e basta.